Maria Vecchio Revisore Vecchio Revisore Ciao a tutti, mi chiamo Francesco e questa è la mia più grande paura. Ok, è un foglio bianco e quindi probabilmente sembro uno un po' strano, ma lasciate che vi spieghi. Questa è la mia più grande paura perché io nella vita faccio l'illustratore. Faccio l'illustratore ma non lo faccio da sempre. Ci sono arrivato e ci sono arrivato facendo un percorso un po' tortuoso e questa sera mi prendo il lusso di spiegarvelo. Non ho fatto nessun tipo di studio artistico perché quando ero bambino disegnavo e disegnavo in continuazione. Qualunque illustratore vi direbbe disegno da che ho memoria. Ecco, io forse persino da prima, perché mia mamma mi racconta, ti portavo all'asilo tutte le mattine, i bambini erano in giro, giocavano, facevano un casino incredibile e tu tutte le sante mattine andavi dalla maestra e dicevi posso disegnare, ti mettevi in un angolo e disegnavi. Poi però succede quella cosa bizzarra che va sotto il nome di adolescenza e lì le cose cambiano. Io nello specifico durante l'adolescenza pensavo che sarei diventato un romanziere, uno scrittore o qualcosa di simile. Quindi ho studiato, ho fatto il liceo classico, ho studiato lettere moderne. A dirla tutta ho fatto un po' finta di fare lettere moderne nel senso che vanto un invidiabile record di 5 esami in 5 anni. E potete serenamente capire da soli perché sono stati gli anni più belli della mia vita. Dopo quei 5 anni mio padre mi ha dato la più classica delle pedate nel sedere, mi ha detto ora basta con questa farsa, trovati qualcosa da fare. E mi sono messo a fare quei lavori che fai quando non hai nessun tipo di professionalità specifica. Sono stato un pony express, ho lavorato nel marketing telefonico, può essere che una sera abbia chiamato a casa qualcuno di voi cercando di vendervi qualcosa. Il lavoro più stabile che trovai in quel periodo fu l'uomo delle pulizie. Facevo l'uomo delle pulizie in un ufficio e quindi tutte le sere quando l'ufficio si svuotava arrivavo io, pulivo le scrivanie, i bagni, i pavimenti e portavo a casa in questo modo la pagnotta. In quell'ufficio ho fatto l'incontro che in qualche maniera ha cambiato il senso della mia storia. Perché in quell'ufficio ho incontrato un piccolo Mac ed era un Mac di 20 anni fa, quindi sensibilmente diverso dagli strumenti che siamo abituati a utilizzare oggi. E il fatto è che all'epoca avevo due cose, soprattutto un sacco di tempo libero e la mattina dopo potevo dormire e tanta curiosità, quella ce l'ho ancora. E quindi quando finivo le mie pulizie accendevo il Mac per capire come funzionasse, per capire che cosa potevo combinarci. Ed è successo che in qualche maniera quel piccolo Mac e quella cosa che continuavo a fare per me stesso tutti i giorni, disegnare, come se fosse una terapia personale, mi sembrava potessero parlare un linguaggio comune, mi sembrava avessero dei punti in comune. A furia di lavorare su quel computer tutte le sere mi sono un po' inventato una professione da grafico e vi assicuro che è una parola grossa per quello che combinavo all'epoca. Però ho fatto sta che proprio in quell'ufficio ho iniziato a fare il grafico perché ho scoperto che in quell'ufficio mancava un grafico, lo cercavano, non lo trovavano. E quindi una sera ho fatto una grafica bruttissima di cui si sono assolutamente per fortuna perse le tracce. E l'ho lasciata sul tavolo del capo di quell'ufficio con un post-it, con scritto sono quello che fa le pulizie la notte, ma se serve posso fare anche questo. Erano messi così male sostanzialmente che mi dissero va bene, da domani mattina cominci. E quindi ebbi accesso legale a quel computer e con la luce del giorno, il che migliorò notevolmente la qualità della mia vita. E per una decina d'anni ho fatto il grafico, ho fatto tantissima grafica. Disegnare era una passione mia personale, era la mia terapia, ma lo facevo e lo tenevo in un cassetto. In gran parte per timidezza e in parte perché ero assolutamente convinto che non esistesse uno così matto là fuori da darmi dei soldi per i miei disegnini. Cosa succede a questo punto? A questo punto dopo dieci anni di grafica, e dovete immaginare le grafiche peggiori dal volantino della pizzeria sotto casa a cose anche più divertenti, succede qualcosa che ha a che fare col caso. Oppure con un'altra parola, sempre di quattro lettere, che inizia per C, finisce però, ma non è caso. Perché capita che da grafico faccio una copertina per una rivista, una rivista per cui lavoravo, che si chiamava Rivista Ufficiale MBA. Era la rivista ufficiale della MBA in Italia. La faccio e questa copertina viene ripresa da un blog editoriale che la pubblica tra le migliori copertine della settimana. Io, felicissimo già così, dovevo capire che il bello doveva ancora venire, perché dopo qualche giorno da quella pubblicazione su quel blog, mi arriva una mail di un tale, che si qualifica come un art director del New York Time Magazine, e mi dice, ho visto la copertina sul blog, è bellissima, non conoscevo la tua rivista. E io dico, ma come? A New York non conoscete rivista ufficiale MBA? Com'è questa cosa? Gli rispondo, io la tua l'ho sentita nominare, New York Times, ok, mi dice qualcosa. Iniziamo a chiacchierare via mail, parlando di grafica, parlando di design editoriale, parlando di basket. Io faccio finta di essere uno che di basket ne sa tantissimo per mantenere la conversazione attiva. E dopo un po' di mail, prendo il coraggio due mani. E gli mando un messaggio dicendogli, senti, a questo link trovi un po' di disegnini che faccio per me, che faccio nel tempo libero, siccome non mi ricapita un'altra volta di parlare così con uno del tuo livello, sai che c'è? Ho bisogno di consigli, ho bisogno nel caso di schiaffoni, ho bisogno che tu mi dica se questa cosa che faccio e che mi piace tanto ha un senso oppure no. Lui non risponde per un paio di giorni, e di solito era molto rapido nelle risposte, io penso di aver rovinato una meravigliosa amicizia. E invece dopo due giorni mi manda una mail, che credo ricorderò per sempre, perché mi scrive Francesco, they say timing is everything. Dicono che il tempismo è tutto nella vita. Penso che tu sia perfetto per farmi un Mitt Romney wibble wubble. Ecco, la vostra è più o meno la stessa reazione che ho avuto io, perché Mitt Romney, ok, lo sapevo, era il candidato nella corsa presidenziale contro Obama, ma un wibble wubble, diciamocelo, cosa diamine è un wibble wubble? Grazie a Dio, tra le cose meravigliose che l'uomo ha inventato, c'è una cosa che si chiama Google Immagini. Tu ci vai sopra, scrivi wibble wubble, e scopri che è quello che noi chiameremmo Ercolino sempre in piedi, sono quei pupazzi che anche quando gli dai una botta, tornano sempre al loro posto. Lui voleva che disegnassi un Mitt Romney dentro un wibble wubble, dentro uno di questi giocattoli. Ci lavoriamo a distanza per non più di due o tre giorni, e dopo due o tre giorni mi scrive e mi dice perfetto, il tuo Mitt Romney approvato, e aggiunge a chiusura della mail Francesco, you made the cover. E io gli scrivo e gli dico, scusami, in che senso hai made the cover? E lui, ah non te l'ho detto, il tuo Mitt Romney wibble wubble va sulla copertina del New York Time Magazine. Io, come potete immaginare, ho dapprima un mancamento, poi dopo i sali mi riprendo e capisco due cose quando esce questa copertina. La prima, che forse quei disegnini lì, insomma, non sono così male se possono finire sulla copertina di un giorno del genere. E la seconda, che devo mettere da parte la timidezza, mettere su quella che a Milano chiamiamo faccia di tolla e fare sapere a tutti che ho fatto questa cosa. Applausi. Per cui inizio a mandare mail a chiunque, ma quando dico chiunque intendo chiunque, anche mia zia, dicendo, zia non ci vediamo da Natale, ma sai cosa è successo? Ho fatto la copertina del New York Times. E da lì, in un circolo virtuoso, l'illustrazione diventa il mio lavoro, diventa il mio fortunatissimo modo di pagare le bollette. E in questo mi sento un privilegiato, un privilegiato assoluto, perché ho la sfacciata fortuna di essere pagato per fare quello che amo. Ma non pensate che essere un illustratore sia fragole e panna tutti i giorni. Non immaginatemi seduto su una nuvoletta mentre sorseggio prosecco con una mano e disegno quello che ho voglia di disegnare con l'altra. Non è così. Essere un illustratore è molto meno simile ad essere un artista che ad altro. È molto più simile ad essere Mr. Wolf di Pulp Fiction. Ciao, sono Francesco, risolvo problemi. Perché hai sempre a che fare con una committenza dall'altra parte. C'è un cliente che ti pone un problema e tu cerchi di risolverlo. E per risolvere i problemi dei miei clienti io devo affrontare quotidianamente la mia più grande paura, quella del foglio bianco. E come lo faccio? Ho capito che per farlo serve metodo, non si può improvvisare. L'ispirazione non è una cosa per la quale sei seduto sotto un albero, ti casca una mela in testa e oh, ti viene un'idea. L'ispirazione ha bisogno di metodo. Picasso diceva l'ispirazione esiste ma deve trovarci al lavoro. Ed è esattamente quello il punto. Bisogna lavorare sulla propria ispirazione. Anche perché facendo questo esercizio io ho scoperto che la creatività è un muscolo esattamente come tutti gli altri. Ed esattamente come tutti i muscoli funziona in un solo modo. Se continui ad allenarlo. Ed è il motivo per cui io cerco di tenere sempre allenata la mia creatività. Come lo faccio? Tenendo la mente aperta, riempiendola di cose belle, guardando belle illustrazioni, leggendo buoni libri, ascoltando buona musica, bevendo un ottimo aperitivo con gli amici. Perché sono tutti stimoli che servono a nutrire la mia creatività e che possono tornarmi utile quando ho bisogno di risolvere un problema a me stesso o ai miei clienti. Facendo questo esercizio ho scoperto una serie di cose meravigliose. Perché ho scoperto, per esempio, che quando si dice fare il passo più lungo della gamba, che è la sostanza della creatività, succede una cosa incredibile. Succede che le gambe si allungano. E quando le gambe si allungano ti portano verso nuovi territori. E andare verso nuovi territori vuol dire imparare parole nuove. Vuol dire crearsi un vocabolario di parole nuove che non conoscevi e che impari a conoscere e a usare. E quando usi parole nuove puoi anche raccontare storie nuove. E devi farlo sempre con la tua personalità, con la tua voce. Perché non mi interessa seguire la moda del momento o disegnare come disegna qualcun altro. Mi interessa dire le cose che mi interessano dire con la mia voce. E ho scoperto che questo è fondamentale. Perché è molto più importante essere felici che essere belli. Perché la felicità resta mentre le mode passano. Questa è la mia sfida. Stasera parliamo di sfide e io vi ho raccontato la mia. E vi ho raccontato anche come faccio ad affrontarla tutti i giorni. Per cui adesso vi posso dire che sono Francesco, faccio l'illustratore e quella mia paura grande, quel foglio bianco, mi fa un po' meno paura. Grazie. Grazie.